Cassetta medica, ecco! Cassetta medica, ecco! Cassetta medica, ecco, 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 ecco! C'è un ricognitore! Ricordiamo le demiche, ho individuato! Ho individuato una ritraga a te, dice! Sì, è un soldato venito a cavallo! Mitragliatrice, è una delle loro! No! Buon appetito! Attenzione, mitragliatrice! Attenzione! Assetta il gol nemico! Vendi il gol nemico! No! We are losing objective charge. Mi servono proiettili! Medico! Cassetta medica, rimettite in sesta. Cassetta medica, eccola qui. We are losing objective butter. La! Una mitragliatrice nemica! Vedo un assaltatore nemico! Ho localizzato un ricognitore! Occhi aperti! C'è un ricognitore nemico! Non è meglio! We are losing objective Duff. Occhio! Una mitragliatrice nemica! No! Vedo una mitragliatrice! Visto! È un medico nemico! Vedo un medico! Vedo un medico venito! Mi taglia, feccio nemico localizzato! Ehi! Lascia un medico nemico! Ehi! No! Questo esame. È un medico nemico! Alla! 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 Mi taglia trecce di mica! Alla! We have lost Objective Butter. We have one objective remaining. Alla! 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 I've lost my luck! We have no objective remaining. I've lost my luck! Alla! 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 We have no objective remaining. Ecco una cassetta medica. Ehi, c'è una misogliatrice! Vedo un medico! Assaltatore localizzato! Medico, laggiù! Stiamo attenti, c'è un soldato! Ehi, c'è un soldato! Ecco qui, c'è un soldato! We are losing objective apples. Ehi! Ehi, c'è un soldato! Grazie a tutti.